ciao bambini vi stavamo aspettando ciao io e i miei amici tip e coniglietta stiamo preparando una sorpresa per voi la più grande festa di halloween del mondo sì abbiamo fatto un film un film vero uno di quelli che si guardano al cimena tip si dice cinema non cimena ma è vero infatti ci troverete in tutti i cinema d'italia mi raccomando portate anche i vostri genitori voi sarete protagonisti tanto quanto noi e ci saranno tutte le nostre canzoni da ballare e cantare insieme e poi tantissime avventure come quella dove shhh tip non possiamo svelare tutta la storia carolina ha ragione sarà una sorpresa bellissima va bene allora bambini vi aspettiamo il 29 30 e 31 ottobre e anche il primo novembre bravissimo tip tutti al cinema con carolina e topotip il mistero di halloween ciao